La via in cui abitavo sembrava un fiume, sulla diva opposta il marciapiede, era la regione confinante, come per la Lombardia e il Piemonte, la piazza del mercato al pomeriggio, lunghi corridoi e piccoletti, impressionava il passarci dentro, sfidavamo le ombre e lo spavento, nel cortile giocavamo in cento, polveroni, sassi e gente ostile, per fortuna c'era il primo tempo, ma il prato per giocare era distante, ovviamente scherzo per un terzo, le altre due porzioni sono istinti, giochi della mente ad occhi scaltri, in quella vita i miei divertimenti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!